Buonasera, ben trovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max, edizione con ospite. Nei nostri studi c'è l'assessore regionale alle politiche sociali, Marinella Sclocco. Ben trovata, assessore. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Assessore alle politiche sociali, ma non solo, anche alle politiche giovanili ed altro, ne parleremo nel corso di questa edizione del telegiornale. Iniziamo con il settore dell'edilizia, 342 milioni di investimenti nel mercato delle opere pubbliche nei primi nove mesi del 2015 in Abruzzo. Secondo la CNA è un'occasione per il rilancio del settore edile da anni fortissima crisi. Importanti sono anche le novità della riforma del codice degli appalti. Il servizio. Il mercato delle opere pubbliche nei primi nove mesi del 2015 ha consentito di mettere in campo in Abruzzo investimenti per 342 milioni, un'occasione per il rilancio del settore edile da anni in fortissima crisi. Lo sostiene la CNA regionale che per ottenere questo risultato conta anche sulle novità della riforma del codice degli appalti, strumento essenziale per semplificare, razionalizzare, rendere più trasparente il meccanismo di aggiudicazione delle gare pubbliche. L'associazione di categorie ha presentato le sue proposte nel corso di una conferenza stampa con il presidente e responsabile di CNA Costruzioni Abruzzo, Nicola Cerretano, e Renato Giancaterino, oltre al presidente regionale della CNA Italo Lupo. A sostegno della propria tesi, la CNA cita i dati relativi al numero delle imprese edile in Abruzzo. Tra 2011 e 2014 le sole imprese artigiane che si sono cancellate sono state 1.832, un saldo negativo che ha spazzato via il balzo in avanti registrato nel quinquennio 2005-2009 più 1.305. Una crisi evidente, osserva la CNA, che potrebbe essere alleviata da un più deciso ruolo di protagonista della mano pubblica, solo se si trovassero le risorse necessarie a completare le tante e troppe incompiute, 33 nel 2014 e 40 nel 2015, secondo dati dello stesso Ministero del Tesoro, presenti in Abruzzo. Conti alla mano, secondo la CNA servono poco meno di 55 milioni di euro contro gli oltre 77 già utilizzati per portarli a termine, un quadro che accomuna nella stessa lista edilizia scolastica risanamento dei fiumi, interventi nel campo storico-artistico e riguo, strutture sanitarie, culturali e sportive. Purtroppo registriamo ad oggi nel nostro paese, in Italia, ma anche nella nostra regione una forte presenza di opere incompiute. Lei pensi che solo nel territorio nazionale abbiamo 4,1 miliardi di opere incompiute, il che la dice lunga su come fino ad oggi il codice degli appalti regolava questa materia. In Abruzzo le opere incompiute ad oggi sono 40, per un totale di circa 77 milioni di euro praticamente buttati. Noi ci aspettiamo da questo punto di vista una ripresa forte del mercato, anche in chiave di ristrutturazione edilizia, che è un po' il nuovo fronte su cui le imprese si possono in qualche modo rapportare. Abbiamo fatto una stima sul patrimonio pubblico nazionale che solo di immobili, quindi esclusi del rino, abbonda ben 340 miliardi di euro, non di lire, 340 miliardi di euro che rappresentano significativamente un buon pezzo di possibilità di lavoro per il comparto dell'edilizia. E parliamo ancora di economia, perché il PORFESR Abruzzo 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con la decisione dello scorso mese di agosto, gode di uno stanziamento complessivo di circa 231 milioni di euro e mezzo da utilizzare per il rilancio socio-economico del territorio abruzzese. Finalità del programma è favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale dell'Abruzzo. Cogliamo appunto questa opportunità di avere ospite nei nostri studi l'assessore regionale delle politiche sociali, ma anche alle politiche giovanili, la dottorista Sclocco. Dunque che cosa si può fare per i giovani? Intanto colgo l'occasione della notizia per dire che per la prima volta in Abruzzo tutti i programmi, i fondi europei si programmeranno insieme, si gestiranno insieme, così da avere meglio chiari gli obiettivi e cercando di raggiungerli. Quindi il FES lavorerà insieme all'FSE, insieme ai fondi di altro genere, per esempio anche al Fondo dell'agricoltura per la prima volta, nonostante si parli di agricoltura, si parlerà di fattorie sociali con i fondi dell'agricoltura. Cercheremo di intrecciare tutti i fondi, cercando appunto di metterli maggiormente a regime e quindi di far sì che siano più efficaci. Per quanto riguarda le politiche giovanili, diciamo che il programma più importante di questo anno è stato Garanzia Giovani, 31 milioni di euro per progetti di occupabilità. Anche se molti hanno pensato erroneamente che fosse occupazione, in realtà sono azioni di occupabilità nei confronti dei giovanissimi, quindi degli under 30. Abbiamo già fatto partire 4 mila tirocini, grazie a Garanzia Giovani, 4 mila ragazze hanno fatto questa esperienza di formazione all'interno delle aziende, perché i tirocini sono formazione all'interno delle aziende. Fra qualche settimana usciranno anche due corsi di formazione per i ragazzi, uno per i ragazzi 15-18 anni, l'altro per tutti quanti gli altri ragazzi di Garanzia Giovani e cercheremo di appunto far sì che questa formazione si possa fare all'interno proprio delle aziende, su profili che le aziende stesse ci chiedono, così da poi magari dare davvero delle occasioni. Già intanto siamo partiti a maggio con i tirocini, già in questo anno siamo riusciti a far fare circa 241 contratti alle aziende, quindi ci sono già 240 ragazzi che stanno lavorando nelle aziende con un contratto a tempo determinato o indeterminato, più dell'80% a tempo indeterminato, quindi io credo che per un assessore questa sia una bella vittoria. È vero che ci sono stati tantissimi problemi, tantissimi ritardi, ma è la prima volta che si sperimenta sul territorio abruzzese e nazionale un progetto così complicato e complesso, quindi io spero che l'anno prossimo andrà molto meglio. Ed ora la sanità a Lanciano aumenta l'assistenza ospedaliera, al Renzetti, l'assessore regionale Silvio Polucci oggi ha incontrato i medici dell'ospedale cittadino annunciando più seduti operatori e più anestesisti e posti letto. Vediamo. Aumenta l'assistenza sanitaria all'ospedale di Lanciano, compresi i parti. L'assessore regionale alla sanità Silvio Polucci ha incontrato gli operatori sanitari per avere un quadro statistico completo delle interattività al fine di predisporre una migliore offerta. Saranno aumentate le sedute nelle sale operatorie, gli anestetisti che passano da 14 a 19, i posti letto al pronto soccorso tra le 10 e 15 unità, oltre che nei reparti per le acuzie, più trasparenza per abbattere i tempi di attesa delle visite specialistiche e sterilizzazione delle apparecchiature, ha detto Paolucci in conferenza stampa in municipio. Presenti anche il manager dell'ASL provinciale Pasquale Flacco e il sindaco Mario Pupillo. Una novità, ha aggiunto Paolucci, sarà l'attivazione H24 della guardia attiva anestesiologica, sostituendo la reperibilità. L'ospedale di Lanciano, ha aggiunto Paolucci, va valorizzato per riqualificare l'offerta disponendo di un grande valore multidisciplinare. Un incontro molto importante perché abbiamo fatto un punto sulla situazione dopo le scelte che noi abbiamo avviato nel corso degli ultimi mesi, nella quale abbiamo potuto constatare a detta degli operatori che il numero della prestazione è incrementato in più reparti dell'ospedale Renzetti ed è quello che si voleva, cioè costruire un ospedale di primo livello che desse ovviamente prevalenza alla grande questione della rete di emergenze urgenze e quindi alle emergenze e che allo stesso tempo fosse in grado però di dare anche altre prestazioni. Su questo punto abbiamo detto e abbiamo deciso insieme che il numero degli anestesisti passerà da 15 a 19 nel corso dei prossimi 40 giorni e che pertanto il numero delle sedute operatorie aumenterà sia per il reparto ginecologico, sia per quanto riguarda la chirurgia, sia per quanto riguarda l'ortopedia. E attorno a questo un'altra serie di investimenti che sono in itinero e che verranno realizzati. Parliamo ovviamente della chirurgia, del pronto soccorso, parliamo della grande questione sempre della rete di emergenza urgenza con l'incremento dei posti letto e anche del materno infantile. Anche su questo aspetto dei posti letto abbiamo assunto una decisione molto importante. Nel piano del riordino della rete ospedaliera, come abbiamo più volte annunciato, il Governo regionale non deve fare alcun taglio di posti letto, bensì deve riorganizzarli e quindi deve semplicemente spostarli dedicando le strutture alle acuzze e le strutture che riguardano la sanità territoriale al territorio. E per quanto ci riguarda l'incremento dei posti letto a partire sia dal pronto soccorso per arrivare probabilmente alla parte chirurgica multidisciplinare potrà essere un'ulteriore risposta all'esigenza dei cittadini. Finalmente la Regione ha un progetto strategico sui territori, una sanità che comincia ad applicare le regole, a usufruire degli indicatori e non una situazione così di estemporaneità e di correre dietro al risultato. Questo è il frutto di una seria programmazione che fa un riordino di tutti i territori e in questo riordino Lanciano avrà il ruolo di ospedale di primo livello e quindi altri ospedali che sono intorno a Lanciano avranno altri compiti che ovviamente daranno la responsabilità a Renzetti di fare soprattutto emergenza urgenza e quindi di avere tutte quelle predisposizioni di reparto e di attrezzature e di personale che sarà in grado di affrontare queste problematiche. Diciamo che siamo contenti perché questo è il rifrutto di un lavoro serio che da un anno la Regione sta facendo e soprattutto Silvio Paolucci che non fa figli e figliastri ma ridisegna il territorio. Il manager Flacco ha confermato che sono a buon punto gli appalti per gli interventi sull'area materno-infantile pari a 5,8 milioni di euro e reparto di chirurgia per 500 mila euro. A cardiologia sono invece già in atto i lavori che raddoppiano passando da 120 a 240 mila euro. Rispondendo infine alle domande dei giornalisti, Paolucci ha ricordato la proposta presentata al Ministero circa l'istituzione di un'asle unica in Abruzzo con 5 bacini territoriali L'Aquila, Teramo, Chieti, Pescara, Lanciano Vasto e Sulmona, Vezzano. Sì, io penso a un'asle che faccia parte amministrativa e amministrazione da una parte che poi abbia 5 bacini di utenza che facciano sanità territoriale in collegamento con il DEA di primo livello sul territorio e quindi l'azienda sanitaria deve rivolgersi al cittadino per fare sanità, deve accorciare la filiera, deve dare più spazio agli operatori in rapporto soprattutto con i pazienti. Io penso che noi ragioneremo in tal senso. E per restare in qualche modo in tema sanitario con l'assessore regionale delle politiche sociali parliamo anche di enti d'ambito sociale perché è in corso una rivisitazione del numero stesso di questi enti che sarà ridotto notevolmente come numero? Sì, gli enti d'ambito sociale sono ad oggi 35 e abbiamo invece 24 distretti sanitari quindi non c'è coincidenza, abbiamo 35 più 24. Abbiamo per la prima volta istituito una cabina di regia regionale socio-sanitaria per non prendere le decisioni da soli ma proprio per far sì che le cose si facciano in maniera più partecipata possibile. È stata già riunita una volta e abbiamo votato e fatto passare una delibera in giunta che dice che in Abruzzo gli ambiti dovranno rispondere con i distretti, quindi non più ambiti sociali e distretti sanitari separati ma uniti. Naturalmente adesso ci sarà il lavoro per ridisegnare i nuovi distretti socio-sanitari affinché le cose si possano fare insieme perché i cittadini vanno presi in carico nella loro totalità e non come dire a pezzi sociali e sanitari. Devo dire che nonostante diciamo questo e nelle altre regioni si fa da anni, nonostante la regione Abruzzo invece questa cosa non ha avuto il coraggio o ha avuto tante difficoltà in passato di farla, comunque devo dire che molti distretti e molti ambiti l'hanno fatta ugualmente, anche come dire senza legge, senza delibera, in molti territori abruzzesi c'è questa grande collaborazione, si fanno protocolli di intesa, si lavora insieme. Adesso il mio obiettivo e l'obiettivo di Silvio Paolucci è che tutti i territori, quindi in tutta la regione, si possa far sì che la sanità possa lavorare insieme al sociale. Ed ora una notizia di cronaca, l'omicidio di Bomba ha respinto tutte le accuse, Emilio Teti, quarantenne di Bomba, arrestato sabato scorso per il presunto omicidio volontario della nonna Eliane Grimount, 95 anni, morte il 23 ottobre scorso nell'ospedale di Lanciano, la donna era stata ricoverata in gravissime condizioni a causa di presunte percosse in tutto il corpo. Voltiamo pagina a Francavilla al mare, l'amministrazione comunale ancora in attesa di conoscere dall'Arta i dati relativi all'inquinamento dell'aria durante quattro mesi di deviazione del traffico dalla variante in città a seguito della chiusura per lavori della Galleria San Silvestro. 4.400 veicoli all'ora nelle ore di punta pari a un numero compreso tra 48.000 e 53.000 veicoli al giorno. Questi i dati del traffico sul tratto di variante di Francavilla al mare rilevati dall'ANAS prima della chiusura per eseguire lavori di messa in sicurezza alla Galleria San Silvestro, riaperta il 26 ottobre scorso. Il comune di Francavilla al mare aveva chiesto all'Arta durante i quattro mesi di deviazione del traffico in città di rilevare i dati di PM10 e di altri inquinanti dell'aria. Siglata alla convenzione a giugno, installata alla centralina a fine luglio, la centralina si è rotta prima di ferragosto. Il sindaco Antonio Luciani è ancora in attesa di conoscere i dati sull'inquinamento dell'aria rilevato per i 26 giorni previsti dalla convenzione stipulata con l'Agenzia regionale per la tutela ambientale. Abbiamo appreso che fra qualche giorno ci verranno restituiti i dati della centralina dell'Arta per la rilevazione della qualità dell'aria in zona Pretaro. Ci siamo un po' lamentati perché questi dati arrivano quando la variante è stata riaperta e quindi saranno dati che studieremo solo per avere come ipotesi di intervento per il futuro ma che non sono più attuali. C'è stata una piccola polemica con l'Arta che purtroppo non ci ha fornito i dati parziali che noi avevamo richiesto con una lettera già da metà di agosto però ci hanno spiegato appunto da quegli uffici che per loro non era possibile darli. Io auspico che tutto ciò serva per il futuro, a migliorare per il futuro e quindi che l'Agenzia regionale si doti di macchinari, mezzi, di ciò che occorre per fare dei rilievi che potrebbero essere dati anche online ora per ora come avviene in altre regioni d'Italia. Comunque sono in attesa di ricevere questi dati all'esito dei quali probabilmente farò una conferenza stampa o condividerò con i cittadini questi dati per capire la qualità della nostra vita e soprattutto la qualità se la nostra salute è stata in pericolo in quel periodo e per vedere di porre rimedio per il futuro. E allora adesso parliamo un po' di politica regionale, ne siamo al corrente, nei mesi scorsi sono state ridistribuite le deleghe, è entrato un nuovo assessore in giunta a Gerosolimo, le deleghe dell'assessore Sclocco sono state in qualche modo spacchettate potremmo dire e tra le deleghe che le sono state riattribuite ce n'è una nuova, quella della valorizzazione dei beni culturali. Quindi di che cosa si sta occupando adesso? Sì, abbiamo intanto fatto un check delle questioni in sospeso, stiamo lavorando su un portale perché il grande paradosso è che la regione Abruzzo è ricca di beni culturali che vanno dagli eremi alle chiese ai castelli, gli scavi archeologici, ma non abbiamo un sito molto indicizzato, un sito come dire importante per poter valorizzare anche fuori, non solo in Abruzzo ma anche fuori dall'Abruzzo, quindi stiamo lavorando con un'agenzia importante che ha vinto la gara, che ha vinto il bando per poter far sì che tutto quello che abbiamo possa essere pubblicizzato al massimo, conosciuto al massimo, nelle scuole, nei nostri cittadini ma anche fuori. Lavoreremo anche su alcune leggi, c'è una legge che è la legge 44 che è una legge dei musei, abbiamo grazie a questa legge 170 musei, ma è oggettivo che non tutti e 170 li troviamo aperti e funzionanti, quindi è necessario fare una legge sulle eccellenze affinché davvero possano essere valorizzati e sostenuti i musei che funzionano meglio e che funzionano. Abbiamo fatto un protocollo di intesa, credo è importante perché è la prima volta che in Abruzzo si fa un protocollo di intesa di questo genere, firmato dalla sottoscritta, firmato dall'Università Chieti Pescara e dalla sovrintendenza. La sovrintendenza si occupa di tutela dei beni culturali e noi di valorizzazione. Che cosa abbiamo detto con questo protocollo? Abbiamo di fatto messo in rete tutti gli scavi archeologici che sono una grande ricchezza abruzzese, storica, ricca, importante di valore, di grande valore, le abbiamo messi in rete, faremo iniziative con l'Università perché lì abbiamo gli archeologi, quelli che già sono archeologi, ma quelli che si stanno formando per diventare archeologi, ma anche con la sovrintendenza che poi è la padrona in questo senso. Quindi lavoreremo sugli scavi, lavoreremo anche con le chiese. Abbiamo in mente di fare un protocollo d'intesa anche con i vescovi abruzzesi affinché mettano a disposizione le chiese, sia appunto per fare formazione all'interno non solo ai bambini, ma anche appunto a chi si occupa di belle arti e anche lì appunto per riuscire a valorizzare meglio questo grande patrimonio che abbiamo, in vista anche del giubileo che sta per iniziare. Diciamo che è una bella delega, ci sono moltissime cose da fare e l'Abruzzo è veramente, come dire, ha una ricchezza infinita che va conosciuta. Sono stati, per esempio, studiate, sono state fatte all'incirca 90.000 schede di beni culturali esistenti in Abruzzo, 90.000 schede, quindi abbiamo una ricchezza infinita che è necessario, come dire, far uscire dal cassetto e farla conoscere agli abruzzesi, ma soprattutto all'estero e in Italia. Bene, allora grazie all'assessore Mariella Sclocco per essere stata nostra ospite. Grazie a voi, buona serata. Salutiamo i nostri tre spettatori che ci hanno seguito fin qui.